E' stato il Comune di Sinagra ad ospitare ieri sera la premiazione del concorso Balcone Fiorito. La serata è stata organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Sinagra e della Fondazione Antonio Presti Fimara d'Arte Tusa, nonché dell'Unione Proloco Sicilia, Università di Sud di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, del Garden Club di Messina, del Museo Naturalistico di Francesco Minapalumbo di Castelbuono, del Consorzio Nazionale Comuni Fioriti, dell'Associazione Culturale Patos di Torrenova e della Cooperativa Arte a Capomilazzo. Perno dell'appuntamento che ha voluto offrire riconoscimenti ai partecipanti dell'iniziativa di abbellimento dei centri storici è stato un incontro dal tema Il Valore Civico della Bellezza, a cui hanno preso parte Antonino Musca, sindaco del Comune di Sinagra, poi Vincenza Mola, presidente della Proloco, Flora Bombarda Salleo, presidente del Garden Club di Messina, Basilio Mangano, presidente del Club Rotary dei Patti, Terra del Tindari, Michele Sgro, vicepresidente nazionale di Comuni Fioriti, Antonio Presti, della Fondazione Fimara d'Arte Tusa, Rosario Scicchi, direttore del Museo Naturalistico Francesco Minapalumbo di Castelbuono e direttore dell'Orto Botanico di Palermo. All'evento invece hanno preso parte Marcel Pidalà, docente dell'Università di Palermo e Firenze, Lina Ricciardello, past-presidente del Rotary Patti, Terra del Tindari, Maria Antonetta Germana, docente dell'Università di Palermo, Maria Luisa Germana, docente sempre a Palermo, Anna Maria Mitrano, docente dell'Università Palermitana e Bernadette Grasso, assessore regionale. A seguire la sfilata di moda dell'artista Anna Parisi di Milazzo e la premiazione dei balconi di Sinagra e delle delegazioni degli altri comuni che hanno partecipato alla serata.